È tempo di prescistica. Con la stagione che si apre a Sant'Ambrogio, bisogna aver già iniziato l'allenamento per tornare sugli sci senza rischi. Occorrono almeno tre settimane di training mirato per ridurre il pericolo di infortuni sulle piste. Un pericolo che incombe in particolare sugli sciatori dilettanti, che tornano sulla neve senza preparazione. Lo spiega Vincenzo Denaro, ordinario di ortopedia e traumatologia del campus biomedico di Roma, dove sabato 25 novembre inizia il master di secondo livello in traumatologia dello sport. Esercizi mirati a corpo libero e con appositi strumenti permettono di allenare il muscolo in modo mirato e prepararlo all'attività sportiva sugli sci, riducendo così il pericolo di infortuni, assicura Denaro.